Mi aspetto, ragazzi, un cannone. Un carro armato, spero, ma anche un cannone. Qui qualcuno, forse, aveva ragione, ma non solo. Aveva avuto ragione fin dal primo momento, perché più di un mese fa, non so chi se lo ricorderà, pubblicai un video in cui testimoniavo, dicevo, che ci sarebbe stata probabilmente a cavallo, fra febbraio e marzo, una doppia uscita di fila, tra l'altro, con Legends Limited e Ultra. Guarda caso, è stato proprio così. Abbiamo avuto Goku Revive per la prima parte dei 70 milioni di utenti e avremo Rose Ultra per la seconda parte dei 70 milioni di utenti. Ma io prima di iniziare vi invito fin da subito a lasciare un like a questo video, perché andremo a parlare del nuovo Vegeta, o meglio, dello Zenkai dato a Vegeta Blue Evo, ma soprattutto andremo anche ad affrontare un argomento scottante al momento attuale per quanto riguarda il colore, principalmente, di Rose Ultra. Ma prima, fatemi ancora una volta sfilacciare. Platino per Goku Mui. Fin dal primo momento mai stato d'accordo con questa cosa. C'è Hit Ultra, c'è Hit Ultra che già risponde bene o male a quasi tutte le caratteristiche di Goku Mui. Perché dare un Platino a Goku Mui in questo momento? Goku I mandato a Zenkai, l'Homen ovviamente, non avrebbe avuto troppo senso. Avrebbe avuto molto più senso dare lo Zenkai, mandando in continuità Universe Rap e Universe Level Saga, a Vegeta Blue. Badate bene, Master Roshi è una Sparking estremamente forte, molto molto forte, ma non la sopraelevate più del dovuto. Anche perché, probabilmente, sarà forse una delle Sparking lisce fra le più forti, ma fra le meno durature. Credo che dopo due, tre settimane, le mie parole in live siano invecchiate abbastanza bene. Anche perché, credo, anzi ne sono sicurissimo, certo, che il Vegeta Blue Evo, almeno Universe Rap, andrà a prendere di sicuro lo spot giallo di Roshi. Quindi, o giocheranno insieme, o Vegeta sostituirà Roshi. E ciò lo dicevo, sia mentre shaftavo Roshi, e lo dico oggi, anche dopo aver trovato Roshi. La seconda parte della celebrazione dei 70 milioni di utenti risponderà e si metterà in continuità, comunque, con la prima parte a tema Universe Rap o Universe Level Saga. Quindi, di sicuro, non vi preoccupate, non è finito qui il buffa tag Universe Rap. È vero che abbiamo fatto lo step in avanti passando al Future, ma di sicuro ci sarà qualcosa da mettere in continuità con la prima parte. Ebbene, incredibile ma vero, già solo Rosé si mette in parte, in continuità, con la prima parte. In che modo? GodKey. Ed allora, il possibile Vegeta, ciò che menzionavo all'interno dell'ultimo video, speculazione, secondo il quale avrebbero sicuramente buffato Vegeta Clan, ma anche probabilmente GodKey, ma anche probabilmente Future e tutto il resto. Dov'è finito? In Vegeta Blue Evo, semplicemente andando a mettersi in continuità con la prima parte tramite Universe Level Saga, Universe Rap, GodKey, ma anche con la seconda parte, sempre GodKey e Vegeta Clan. Quindi ragazzi, non per dire, ogni tanto permettetemi anche di fare un video del genere, soprattutto per chi tenta e prova sempre a darmi contro. Non sono la bocca delle verità, però ci gioco letteralmente dalla beta, alcune volte ci prendo su delle cose, altre non ci prendo, però bene o male, io credo che ci sia una logica dietro determinati ragionamenti e se dico qualcosa è perché probabilmente c'è stato un ragionamento dietro. E quindi, questo qui è il preludio anche per i ragionamenti che andremo a fare all'interno di questo video e quindi, morale della favola, nel momento in cui arriveremo ad un risultato, sarà comunque un risultato, sbagliato giusto che sia, provenuto da un ragionamento logico. Quindi, io direi di partire, prima di tutto, con lo scovare, visto che ormai sappiamo già che Vegeta riceverà lo Zenkai, con lo scovare, prima di tutto, il colore di Rosé, perché al momento attuale è sconosciuto, è l'unica cosa, in parte in realtà, a parte il kit, che noi effettivamente non conosciamo. Per farlo dobbiamo partire però da una base, quindi dobbiamo capire un attimino quale vuole essere il nostro team principale, tra virgolette, per Rosé. Posto che comunque non avrebbe problemi, perché lui, trattandosi di una ultra, andrà quasi, e per forza di cose, leader slottato, a parte nel suo team d'appartenenza, quello lì proprio strettamente per l'appunto d'appartenenza. Allora, proviamo a concentrarci magari sul future al momento. Mancherebbe, secondo me, al momento attuale, un verde che possa dare veramente qualcosa, ma la vedo difficile onestamente che Rosé possa essere verde, attenzione, o magari un rosso in sostituzione con i droidi. È un po' problematica al momento la situazione, secondo me, per questo Rosé a livello di colorazione. E mi spiego perché. Perché in future, se noi vogliamo porre, vogliamo tenere questi personaggi, o queste colorazioni, come intoccabili, per forza di cose, dobbiamo andare a scovare, quindi, un rosso nel verde. Problema, verde abbiamo già avuto Goku, che tra l'altro, condividerebbe con Rosé anche il tag God Key. Quindi, secondo me, fare Rosé verde non avrebbe troppo senso perché andresti sia a togliere il posto a Goku, tra virgolette, nello stesso team, tra l'altro, e sia nuovamente a rimetterti contro e a ricreare il solido problema di Gogeta. Di contro, fare giallo il nuovo Rosé, allora, per me sarebbe stata la scelta più naturale, però, d'altra parte, poi, andando a vedere in future, abbiamo già comunque Trunks e Vegeta, che io ve lo dico, nel caso in cui dovessero fare seriamente Rosé giallo, ragazzi, sarebbe una sconfitta totale per Trunks e Vegeta, ma totale tombale, proprio. E soprattutto, secondo me, sarebbe un po' uno spreco perché noi il giallo che risponde anche, magari, per dirvi, a God Key, ce lo avremmo, in un certo senso, tramite proprio Vegeta. Mi sarebbe un po' uno spreco, forse. Blu, anche, potrebbe essere uno spreco, vi dico, rimanendo fuori soltanto il rosso, potrebbe starci Rosé rosso, potrebbe, ma d'altra parte, comunque, sarebbe la seconda ultra di fila ad essere di colore rosso. Proviamo però a vedere la situazione in God Key. Com'è? Qual è? Abbiamo, sempre considerando però colorazioni miste, ragazzi, attenzione, il verde che io credo sia intoccabile, poi staremo a vedere. il giallo, attualmente, con Vegeta, che immagino non verrà toccato, perché Vegeta e le LF mandate a Zinkai di solito riescono a mantenersi per un buon periodo stabilmente all'interno del meta. Quindi immagino che il giallo, soprattutto per God Key e tutto il resto, verrà difficilmente toccato. Quindi, dubito, avevo il presentimento, ma ne dubito a questo punto che Rosé o comunque che la Ultra possa essere di colore giallo. Andrebbe seriamente a togliere lo spot a tanti personaggi. Farebbe, non dico morire Vegeta a meno che non si giocasse, non si arrivi a giocarle insieme, ecco, ma farebbe o morire Vegeta probabilmente già subito, andrebbe a rompere le scatole finalmente alla possibilità di brillare a Trunks e Vegeta. Quindi, non lo so, sul giallo anche avrei fortissimi dubbi. Andiamo a vedere per quanto riguarda il rosso. Avremo effettivamente Goku Mui e forse sapete che il rosso potrebbe essere proprio il colore che più potrebbe rispondere alle esigenze sia di Future che di God Ki. Future ti andresti a mettere praticamente al posto dei droidi che comunque rimangono in un'unità abbastanza forte. Anche Goku Mui è abbastanza forte, ma ti andresti a mettere al passo coi tempi perché comunque ricordiamo che i droidi c'è passato un anno praticamente sopra i droidi a momenti. Non lo so se faranno effettivamente rosè ultra di colore giallo nel caso in cui dovessero farlo spero che non vada a sotterrare direttamente già Vegeta Blue evo all'uscita e che non vada a togliere lo spot. Al massimo spero che si possano giocare insieme magari in una line up per dirvi God Ki. Ma ad altra parte il farli giocare insieme, il permettere di giocare addirittura doppio giallo sarebbe proprio la panacea tra virgolette a Gogeta Blue contro Gogeta Blue che al momento attuale è comunque una sorta di piaga all'interno di questo gioco è talmente forte che purtroppo non lo si riesce a buttare giù in alcun modo. Forse giallo ma nel caso rosso però lasciando perdere comunque che si tratterebbe della seconda ultra di fila ad essere di colore rosso. Per il resto gli altri colori non lo so onestamente blu secondo me sarebbe uno spreco perché Zamasu dove lo metti metti rende benissimo soprattutto in Future soprattutto in God Key è lo spot blu che veramente verrà mantenuto ed è anche uno dei più duraturi dal punto di vista proprio della categoria defense type solitamente ci mettono sempre un bel po' di tempo ad invecchiare. Verde ragazzi ne è dubito ne è dubito andare a pestare i piedi a questo Goku sarebbe secondo me farsi auto goal quindi ne è dubito. Vegeta ci potrebbe stare in parte quindi andare sul colore giallo ma soltanto per contrastare Gogeta Blue per il resto il colore rosso forse potrebbe essere stranamente il colore che più si potrebbe applicare su questo nuovo rosè ultra staremo a vedere detto questo però voglio fare un'ultima cosa con voi voglio andarmi a leggere Vegeta Blue Evo per capire un secondino quelle che sono le attitudini del personaggio e quindi per andare a capire cosa potremmo ritrovarci tramite lo Zenkai in uscita domani arriveranno probabilmente tantissimi tantissimi showcase a Zenkai 4 si vedranno molto probabilmente più showcase a Zenkai 4 che a Zenkai 7 i pochi a Zenkai 7 badate bene come valutarli ora giochiamo fin da subito a carte scoperte è da una vita ormai ma da sempre quasi a parte i rarissimissimi casi che le LF che vengono mandate a Zenkai non deludono lo stesso Rosé mi avete dato contro alcuni di voi per tantissimo sono stato memato quando definivo questo Rosé forte 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 ed effettivamente avete visto poi spero ve ne siate resi conto un po' tutti di Rosé cose riuscite a dare all'interno di questo gioco e cosa sta dando stessa cosa per Goku 4 LF poi diventato il personaggio preferito di molti vi potrei fare una lista lunghissima ragazzi quindi non iniziate già da adesso a portarvi avanti non cascate nel solito classico errore questo qui domani con tutta propria anche se lo vedrete performare in altri showcase a Zenkai 7 male lasciate perdere aspettate prima che arriverà a Zenkai 7 il personaggio per poi farvi voi un'idea per poi avere tanti showcase differenti per farvi realmente un'idea ma badate bene che nel 90 no e mi sto sbilanciando tantissimo perché ne sono sicuro nel 99% dei casi questo qui sarà fortissimo fortissimo quindi mi raccomando domani lasciate perdere lasciate perdere il mettersi a dire ah fa schifo di qua e di là solo perché o lo state vedendo Zenkai 4 o lo state vedendo performare male estremamente male all'interno di qualche showcase ok mi raccomando mi raccomando cerchiamo di fare uno step in avanti va bene detto questo mia previsione blaster terrificante questo qui me lo immagino con dei danni elevatissimi elevatissimi dal punto di vista delle blaster ciò che secondo me andrà aggiunto dovrà essere aggiunto saranno sicuramente le difese perché il flawless defense non deve essere più un meme deve essere finalmente un personaggio solido questo qui un po' alla goku 4 lf ragazzi stessa cosa per quanto riguarda altre attitudini che è il personaggio ragazzi la base è già fantastica secondo me è già fantastica anche perché lui si portava la special move in cover tra l'altro che se la pescava con la nullifica dell'elemento a sfavore quindi voi immaginatevi fare questo coso con danni elevatissimi di blast e non solo anche con la special move che risponde alle blast proprio con danni elevatissimi signori avremo probabilmente uno dei personaggi più dannifici del gioco ci metterei la mano sul fuoco e ci scommetto in questo momento badate bene a questo personaggio non cascate soprattutto anche sulla lavorazione dello Zenkai perché è luogo comune nel momento in cui esce il kit dello Zenkai vedere le altre do younique vedere che le altre do younique magari aggiungono un baffettino leggerissimo e dire ecco qui hanno rovinato lo Zenkai hanno fatto merda con lo Zenkai no no perché gli Zenkai principalmente soprattutto quando si tratta di dei kit così completi vengono principalmente baffati nelle statistiche e poi c'è anche l'aggiunta delle percentuali delle altre do younique che non va ad aggiungere nuove meccaniche al personaggio già forte di base ma va ad aggiungere un po' di percentuali per renderlo ancora più forte soprattutto in modo situazionale quindi le mie aspettative su questo personaggio fortissimo soprattutto dal punto di vista offensivo mi aspetto ragazzi un car un cannone un carro armato spero ma anche un cannone quindi io a questo punto voglio sapere assolutamente la vostra voglio sapere la vostra per quanto riguarda le previsioni sullo Zenkai di Vegeta Blue Evo secondo voi come sarà e soprattutto anche riguardo il colore di Rose Ultra detto questo ragazzi e magari fatemi sapere anche che ne pensate delle boh possibili meccaniche che potrebbe avere Rose qualcuno ha parlato di anti-revive parte ci potrebbe stare andrebbe un po' ad affossare onestamente Goku non la vedo troppo troppo fattibile come cosa però d'altra parte ci potrebbe anche stare detto questo mi piace commenti iscrivetevi condividete e ragazzi noi ci vediamo questa sera è live mi raccomando non mancate perché sicuramente andremo a farci l'ultimo giorno di season e andremo anche a recuperare il discorso detto ciò facciamo appuntamento al prossimo video e stasera è là grazie a tutti